comunque boh, il sushi ci sta parecchio stasera boh si, si va io non ti posso non giocare il pub che senso? eh perchè sono musulmana e sai che sei porno mi fa ridere mi fa ridere mi fa ridere benvenuti a tutti da punto stim. e da e sao e oggi vi insegneremo come fare i balli di abbo nella vita reale ci abbiamo provato ci abbiamo provato sarà un po' ridicolo però immaginatevelo con la musica che ora vi metterò di sottofondo cioè non mi ha mai chiamato per fare un video mi chiama solo per fare l'idiota va bene dai se poi la volete in un prossimo video magari scrivetelo nei commenti così siamo a posto e nulla quindi in pratica questi balli li dovrete fare in discoteca andate con i vostri amici e ballateli in discoteca bene adesso vi faccio vedere come balliamo commentate qua sotto chi secondo voi ha ballato meglio me o lei steen o sao ponderando anche quello più simile agli stili abbeschi per facilitarvi nel confronto metto in una zona dello schermo anche gli avatarabbini che ballano così a colpo d'occhio notate subito partiamo con l'hep hop l'unico ballo per non hc proseguiamo adesso con il the rolly vacchi levati proprio questa ragazza muove il corpo meglio di un avatar di minecraft andiamo col duck funk ultimo ma non ultimo per importanza il celebre pogo mogo passato alla storia per la celebre ed umiliante competizione di parecchi anni fa chiamata pogo mogo sui tacchi se non volete sentirvi a disagio vi sconsiglio di cercare questa frase su youtube ma beh io vi ho avvisato ed infine andiamo di abnam style per ballarlo se siete hc dovete digitare due punti abnam stessa cosa per fermarvi se non siete hc non potete ballarlo mi dispiace poveri questo è il ballo che si usa per simulare abusi sessuali su abop mettendovi dietro davanti una bina o una bino dipende dei vostri gusti bene vi ricordo di commentare qua sotto quindi con steen o con sao che è la ragazza in base a chi pensate che abbia ballato meglio e in modo più simile allo stile abesco qua sotto in descrizione trovate il suo instagram seguitela ma seguite pure il mio di instagram che è steen.abbo e faccio un sacco di bellissimi memes su abbo memes è la pronuncia giusta del termine meme quindi voi chiamatelo pure meme però insomma seguite steen.abbo se il video ti è piaciuto lascia un mi piace e condividilo sui social qua a sinistra trovate il mio ultimo video correte a vederlo se ve lo siete perso in alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale infine ecco qua i social sui quali potete seguirmi trovate il loro link qua sotto in descrizione grazie della visione grazie grazie